Ehi, ciao a tutti! Io sono Harley Quinn e questo è un nuovo video! Ciao ragazzi! Allora, ve lo dico subito, sono fissata in questo periodo tantissimo con Harley Quinn e ho pensato, dato che è carnevale, potrei fare un video dove mi trucco da Harley Quinn. Una volta che è carnevale, nessuno potrà pensare male di me, giusto? E ne ho approfittato subito facendo questo trucco, questi capelli, sono una Harley Quinn dark, dato che lei è bionda con gli occhi azzurri, io mora con gli occhi super castani, quindi... Però, il risultato finale mi è piaciuto moltissimo! Adesso vi lascio al video e a ciò che ho combinato per realizzare questo. Spero vi piaccia! Ciao! Vado subito a fare due codine Lasciando un ciuffo Vado con l'altra Ok, per adesso i ciuffi li porto indietro in modo tale che posso fare la base tranquillamente Ok, dovrei utilizzare il bianco, però uso un correttore più chiaro della mia carnagione Uso anche un correttore stick Vado con la cipria Vado a fare un leggero contouring sotto lo zigomo Vado a fare le sopracciglia Andiamo con l'ombretto Ce ne vogliono due Uno rosa Di qua E uno azzurro Di qua Iniziamo con i rosa Non bisogna essere precisi Adesso portiamo l'ombretto anche giù In questo modo Andiamo anche con l'azzurro Andiamo pure giù Dalla different uso bubble e titanic Vado con titanic per intensificare il blu Vado con bubble Vado con il kajal E vado a sfumare un po' Vado a mettere la matita nella rima interna dell'occhio Provo a mettere le ciglia finte Provo Ci provo Ci sono riuscita Una Una è andata Due Ok Vado con il mascara Adesso con la matita Vado a fare un curvicino sulla guanta E vado Alle labbra Il trucco del viso È terminato Adesso andiamo a fare Una particolarità Che è Harley Quinn Di che parlo Dei capelli Per questo effetto ci vogliono I due ombretti Che abbiamo già utilizzato Partiamo con i fucsia Vado a prendere mano a mano Delle ciocche E vado a colorare Queste Andiamo con l'azzurro Bene ragazzi Questo è il risultato finale Il video quindi è terminato Spero vi sia piaciuto Io mi sono divertita tantissimo Se vi è piaciuto questo video Questo trucco Questa pazzia Questo tutto Lasciatevi un commento E un like qui sotto Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto E Da Harley Quinn è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Posso andarmi a Infilare nella lavatrice Non potete immaginare I jeans In che condizioni sono